Presidente, il Governo continua a insistere e a ribadire che non ci sono più fondi per il super bonus, l'Ance non è dello stesso avviso, anche per quello che ha prodotto il super bonus negli ultimi anni, a livello di PIL nel nostro Paese. Certo, niente di più falso, tanto è stato acclarato in maniera forte dalla Luis, e conosciamo cos'è la Luis, dal Cresme di Bellicini, che con una ricerca pagata dalla Camera dei Deputati, quindi dal Governo stesso, ormai sono 22 anni che ci sono i bonus e hanno sempre detto queste ricerche che lo Stato ci guadagna. Addirittura i numeri del 2021 soltanto col super bonus, lo Stato ha avuto un attivo di 4 miliardi di euro. Quindi niente di più falso che allo Stato servono i soldi per questi lavori. Sono lavori che senza i bonus non si farebbero, sono lavori che danno economia, sono lavori che danno sviluppo, sono lavori che danno sostenibilità, sono lavori che eliminano il lavoro in nero. Quindi dove c'è economia, dove c'è un vantaggio per tutti i cittadini, non vedo perché bisogna dire tutte queste falsità. Vogliamo provare un po' ad immaginarcelo? E cioè c'è dietro una moneta virtuale nell'eccezione dei crediti? Che lo dicessero. Noi come ANCE diciamo che è bene che i lavori lo devono fare le imprese qualificate in modo tale che non ci siano più truffe, perché quelle sono una vergogna, e poi diciamo anche mettiamo questa posta in maniera limitata, cioè circa 15 miliardi di lavori soltanto all'anno, e mettiamolo per almeno 10 anni, in modo tale che tutti quanti possiamo organizzarci, soprattutto l'industria delle costruzioni si può organizzare, e sfatare, e voglio sfatare qui, anche un'altra diceria, un'altra falsità, un'altra fake news. Cioè tutti questi rincari nel mondo dell'edilizia non sono dovuti assolutamente al 110, tanto è vero che i rincari si sono già verificati prima che il 110 partisse, e per quanto riguarda tutti i rincari e le materie prime, l'Italia è quella che ha la percentuale inferiore rispetto a tutti gli altri paesi del G20. Se noi immaginiamo che, solo per citarne uno Stato, l'Inghilterra ha circa il 10% di inflazione, e noi stiamo ancora al 6-7%. Capiamo che noi siamo ancora un paese su questo punto vigoroso e bravi, se vogliamo dire.